buongiorno io sono albi e benvenuti in questa nuova puntata dei giocatori della domenica come al solito qua al mio fianco no in realtà non al mio fianco però sapete mi sento molto uno streamer un broadcaster in questi momenti e penso di avere la persona a fianco invece non ce l'ho comunque al mio fianco molto lontano in italia c'è il mio solito alato ciao a tutti ragazzi io sono manuel ma potete chiamarmi semplicemente ala e sono qui moralmente al fianco di albi dai diciamo che alla fine è quasi come essere in uno studio guarda fino a quando non mi stai dietro io sono tranquillo esatto esatto l'importante stare di fianco come si dice così insomma anche oggi vi introduco quello che è l'angolo della posta e finalmente dopo il nostro appello della scorsa puntata abbiamo ricevuto davvero tante email e abbiamo potuto scegliere le due più interessanti di questo mese diciamo in questo mese di questa puntata quindi direi che possiamo cominciare a leggere le prime cosa dici eh dico di sì dico di sì ti vedo ti vedo un po turbato cosa c'è se qualcosa no allora come gioco il dire ragazzi che se ogni tanto mi sentirete esplodere perché come sentite dalla voce sono un po abbacchiato e ho la voce che mi tira dentro mi viene fuori e poi c'è un cane che sta decidendo di cantare festeggiare l'inizio di questo di questa puntata dei giocatori della domenica quindi cercavo di controllare se per caso rimaneva registrata la sua voce mi sa che rimarrà registrata abbiate pazienza ragazzi comunque per quanto riguarda l'angolo della posta per chi non lo sapesse mandando un email ai gdd chiocciola gimba punto net avrete la possibilità di fare le vostre domande a noi che noi leggeremo all'inizio della puntata a cui daremo una risposta questo per chi non lo sapesse perfetto allora andiamo subito con la prima domanda gli svalvolati sul tubo chiedono in futuro più o meno recente sarebbe possibile assistere ad uno sbarco di gimba su console per esempio dei server di battlefield 3 se non ne avete già uno e questa è la prima parte della domanda rispondo che ho visto recentemente che ci sono i server su battlefield 3 proprio la possibilità di comprarli anche di customizzarli forse non tanto quanto su pc ma comunque è un grande passo avanti secondo me per le console il fatto che ci siano appunto dei server in cui te sai che andando in quel server giochi con i tuoi amici trovi sempre la solita gente è una cosa che mancava un po perché comunque anche su bad company 2 c'erano i server magari che che si era un server però era un server in cui comunque ti ficcava il matchmaking server ufficiali dell'ia che non potevano essere personalizzati più di tante invece per la prima volta forse non so se sia la prima volta comunque no per la prima volta diciamo che per la prima volta è un gioco molto grosso comunque no no mi sembra che anche team fortress sicuramente aveva i server comunque diciamo che di base le console non è che obbligatoriamente non hanno i server è una scelta è una scelta stilistica non è non è il fatto che sia una console il fatto che abbia o meno i server non ho scelto di fare così e tutti hanno seguito quella strada diciamo che ovviamente su console tecnicamente un po più complicato avere dei server per esempio per dirne una avere un server di call of duty sarebbe piuttosto complicato per noi però noi piacerebbe avere diciamo un server ufficiale per ogni gioco è un sogno che ci piacerebbe sicuramente realizzare però potete mettere il server di hello kitty online che non so se ha bisogno di server ma se ce ne fosse necessità noi ci proporremo sicuramente no diciamo che appunto sarebbe bello poi ovviamente sono cose che costano noi cerchiamo nel limite del possibile di realizzare tutto quello che possiamo però di sicuro in futuro se ne potrà parlare anche di server di altri giochi su pc comunque in generale server di qualunque cosa e anche su console in i giochi che lo permettono appunto battlefield 3 comunque chiaro chiaro in futuro è una cosa in qualche modo sicuramente è una cosa a cui puntiamo poi quando non ve lo sappiamo ancora dire comunque la seconda parte della dormanda e poi dormanda la dormanda quella che dormita e poi organizzereste una specie di raduno comunque un incontro con tutti gli admin e i rookie e ovviamente noi iscritti possibilmente magari a roma a questo lascio rispondere ala dunque diciamo che di sicuro una cosa che ci piacerebbe fare e vedete che avrete visto anche dai nostri filmati che ogni tanto lo facciamo anche noi tra di noi è organizzare queste cose cioè questi incontri raduni cose live comunque cose interessanti divertenti un po' nuove che ci possono essere in questo ambiente e sicuramente organizzeremo qualcosa una cosa che vogliamo fare che probabilmente riusciremo ad organizzare spero di sì è una presenza forte di Jinba a Lucca Comics di quest'anno e anche di quelli a venire e anche di quelli a venire ovviamente e ovvio poi magari poi capiterà qualcosa prima però mi sembra che degli eventi che ci sono nelle vicinanze questo sia il più probabile il più recente comunque quello che probabilmente parteciperemo il più affollato esatto anche perché molte persone del nostro gruppo provengono da diciamo da Roma in su più o meno come gente quindi è più facile per noi partecipare numerosi a un evento a un evento a Lucca come può essere Lucca Comics poi vabbè molti di noi ci andavano già a Lucca Comics personalmente quindi non è che cambia molto per dire io ci vado quasi tutti gli anni più o meno è la stessa cosa però cercheremo sicuramente di organizzare qualcosa di ufficiale e ve lo segnaleremo con anticipo in modo che possiate venire e salutarci organizzare qualcosa insieme insomma sì e tra l'altro per magari chi sente questo non sa ancora cos'è Lucca Comics beh Lucca Comics si chiama Lucca Comics and Games quindi fumetti e giochi è una grande come definirla una è una fiera una fiera una mostra una fiera esatto una mostra che un davvero molto grande si svolge per tutta la città di Lucca in cui ci sono sia esposizioni di videogiochi anteprime ad esempio mi ricordo che un paio di anni fa si poteva giocare a Black Ops poco prima che uscisse cosa del genere ecco ci sono sia giochi sì di sicuro il lato games è molto cresciuto rispetto a quando ho iniziato una volta erano solo fumetti manga cose del genere adesso c'è molto molto più anche di videogiochi anche giochi da tavolo Magic, Yu-Gi-Oh, D&D, compagnia bella esatto comunque sì appunto può essere interessante sicuramente una nostra partecipazione si svolge a Lucca a cavallo mi sembra del di Halloween a fine ottobre giusto no? Halloween più o meno tutti i santi come vogliono chiamarli quel periodo lì perfetto ok direi che possiamo passare alla prossima domanda seconda domanda dunque Armando ci chiede per voi commentatori il giocare è ancora un hobby o lo prendete più come un obbligo? eh hobby è obbligo diciamo che dipende sai ci sono alcuni giochi che davvero ancora un hobby e certi giochi magari sai mi ricordo una volta Evil mi diceva pensa quanti giochi se tu non fossi commentatore non ci giocheresti effettivamente molte volte i commentatori giocano a dei giochi che commentano che magari ci fanno video che però se non commentassero se non facessero video non giocherebbero a quei giochi non lo so faccio un esempio io magari Minecraft mi piace sì è un bel gioco mi piace relativamente ma il bello di Minecraft secondo me è proprio il commentare il fare dei live il cercare di intrattenere le persone con quel gioco perché di per sé quel gioco a me non piace tantissimo mentre invece c'è un gioco che è Dota 2 che mi piace tantissimo ci gioco ancora moltissimo come hobby e dal quale però non posso trarre molti video anche perché sono un nubo della madonna quindi diciamo che è ancora un hobby secondo me con certi giochi però con certi altri giochi i commentatori si sentono magari in obbligo di giocarci soltanto per fare video perché magari sono dei video che piacciono e sanno che magari appunto possono aver successo con questi video esatto diciamo che in generale dipende da persona a persona parlare di voi commentatori così come un'unica entità ovviamente è impossibile anche lì dipende ci sono persone che riescono a giocare a varie cose pur magari avendo tanti interessi per dire magari io personalmente che ne so sono molto più concentrato su un gioco quando faccio qualcosa quindi per esempio prima facevo video di Black Ops perché perché giocavo a Black Ops ora non mi metto a fare video di Black Ops apposta per cioè non mi metto a giocare a Black Ops apposta per fare video diciamo che dipende un po' ognuno come la prende cioè c'è chi la prende che quello a cui sta giocando crea il video e che c'è chi la prende che il video crea quello a cui sta giocando è un po' diciamo un diverso modo di porsi ma abbiamo un filosofo tra di noi è un filosofo senza voce purtroppo quindi dovrete avere pazienza questa puntata perfetto io vi ricordo ancora una volta che l'indirizzo email è igdd.gimba.net ogni settimana prendiamo un paio, quattro a seconda di quante ne abbiamo di quanto belle sono e quanto ci piacciono o quali domande a cui rispondiamo cento cento e gnocca per tutti perfetto allora io adesso do il tempo ad alla di aprire il canale del secondo ospite visto che come al solito se lo sarà dimenticato sapete che lui lo apre e si legge la descrizione e fa queste magheggiate io introduco invece il primo uno dei primi commentatori con cui ho collaborato e a mio parere uno dei migliori sul tubo lego wow sono emozionato beh io vi saluto nuovamente nuovamente qua per i GDD è sempre un piacere partecipare beh insomma spero che mi conoscerete un po' per anche le serie qua su Gimba in realtà tu ultimamente sei conosciuto come quello che si porta a spasso sulla moto la bionda di Ray Gould raccontaci un attimo di questa esperienza beh conosciuto per scusa se lego se posso interromperti ora devi dire la frase devi dirla anche se io non sono una nuca bionda con quelle 400 euro per forza ok adesso non me la ricordo molto già lì quando me l'avevano fatta dire praticamente me la volevo scrivere perché non me la ricordavo ed era anche più complessa di quello che ho detto alla fine comunque vabbè per questa volta farò un'eccezione no 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 aspetta aspetta guarda se vuoi te la dico io grande questa qua è una variante però ok aspetta che prendo penna e una carta e me la scrivi al massimo ramarro marrone lavorava in un cantiere ruspando con piacere bella ramarro marrone lavorava in un cantiere ruspando con piacere perfetto abbiamo avuto la nostra presentazione direi che ha la pensate che basta dire questa frase per portarsi delle bionde in moto mamma in moto da cross no che poi di solito hanno paura dicono no no ci vengono contegui di male invece invece supereranno ogni paura con quella frase ricordatevelo ringraziate albi di questa perla di saggezza e ora provate perché non lo sapesse raccontaci un po' di cosa si tratta perché qua stiamo citando sì infatti molti non avranno capito magari molto non avranno visto l'intervista raccontaci un po' beh per chi non avesse visto l'intervista praticamente c'è stata all'interno di questa intervista questa scena in cui questa intervistatrice che molti morti di fame di voi continuano a sbavarci dietro ma fanno bene d'altronde e saliva in moto con me io me la scaruzzavo in giro l'ho scaruzzata diciamo in giro e tutto qua e poi e poi no e poi no purtroppo ho firmato delle pratiche che non mi concedono di dire nulla di andare oltre ok cioè poi su youtube ci sono minovelli va bene va bene il link al video dell'intervista di lego comunque lo mettiamo nella descrizione del canale per chi se l'è perso un'intervista che è andata in onda su ray gulp pochi giorni fa e beh direi che possiamo anche presentare il secondo ospite che aspetta no sì direi che possiamo partire col secondo ospite vado a leggere la sua descrizione che questa volta è formata da ben cinque parole e allora quality and variety and entertainment parte con questa frase inglese per bullarsi di stare in america ciao dig ciao a tutti qui è dig e ovviamente penso mi conoscerete per la serie anglo di dig su jimba network dove faccio vedere un bel po' di giochi dagli indi a quelli un po' meno conosciuti a quelli anche molto conosciuti su cui però è un po' difficile magari fare un video normale ti riconordiamo anche come lo stallone italiano di san diego giusto? ovviamente lo stallone italiano di san diego che è qui a studiare più che andare in giro a stallonare no no è lì a studiare e fecondare deve essere questo il tuo obiettivo cosa che studi di preciso san diego te? io computer science informatica in pratica capito vuoi fare il programmatore di videogiochi no? ovviamente ovviamente e per ora qual è stato il tuo progresso in questo campo? hai già creato qualcosa? io un ramarico che ho è che non ho mai cioè ho sviluppato ma non ho mai tirato fuori un prodotto finito è una cosa che ho avuto alcuni progetti soprattutto il mio progetto più grande penso fosse l'esame quello d'esame della fine dei superiori però come prodotto finito non ho mai tirato fuori insomma non sei ancora ai livelli Steve Jobs Bill Gates sto adesso lavorando comunque un gioco quindi spero si vedrà qualcosa breve spero anch'io bene direi che possiamo partire no Alain? sì sì decisamente dunque possiamo quindi partire col nuovo argomento di questa puntata che è le console di nuova generazione the next generation questa partenza Alvin non so se te l'aspettavi ma è molto sgrava abbastanza no comunque è da un bel po' che sentiamo che sentiamo parlare di sta PS4 Xbox 720 le nuove console quando escono non escono come sono così io sinceramente continuo a sentire notizie da ormai due anni sulle console di nuova generazione ma qualcuno ha la più pallida idea di quando usciranno Lego Dig voi sapete qualcosa ci sono stati dei rumors io da parte mia avevo sentito dei rumors che erano correlati all'Areal Engine 4 e gli sviluppatori per appunto di questo engine dicevano che sarebbe uscito nel 2013 fine 2013 e quindi quando c'è un nuovo engine di mezzo solitamente ci sono anche le nuove console di mezzo insomma non è detto il Frostbite 2 per esempio è andato anche sulle PS3 di Xbox 360 la Real Engine è usata da davvero tanta gente rispetto per dire a un Frostbite che è più relativo a un singolo gioco poi immagino che anche quello sarà venduto eccetera però la Real Engine loro producono il motore che poi viene usato da un sacco di giochi qua Dig penso che possa raccontarlo molto approfonditamente cos'è sto Real Engine spiega meglio un attimo allora in pratica l'engine serve per diciamo non doversi ogni volta riscrivere tutte le funzioni per sarebbe il motore di gioco il motore di gioco quello grafico quello fisico se ne implementa uno insomma tutto è un kit per creare il videogioco in modo che ogni volta non devi riprendere da capo come non so rifarti ogni volta le pipeline per quanto riguarda il rendering la grafica e tutto così via insomma non bisogna ogni volta reinventare la ruota bisogna partire da delle cose già pronte che ti permettono di costruire poi quello che vuoi quindi loro cosa fanno ti preparano questo engine che poi gli sviluppatori possono se hai la licenza quella che si paga sono delle licenze che si pagano si pagano fior di soldi tu puoi modificartelo anche a mano oppure comunque utilizzarlo così com'è per creare il tuo gioco quindi la real engine è uno di quelli più utilizzati tra i giochi commerciali vediamo Gears of War lo utilizza beh i giochi della epic in generale lo utilizzano e mi pare che anche forse per esempio mi sembra che ho utilizzato una versione mi pare che un automrider forse lo utilizzi in Unreal Engine non ne sono sicuro sbaglio anche Call of Duty è una modifica di un motore vecchio mi pare quello di Call of Duty comunque in pratica serve per non rifarsi tutto ogni volta e il fatto che questi qui questi della epic creino un nuovo motore un nuovo motore di gioco significa che cominciano a passare in giro agli altri sviluppatori per sviluppare sulle console di nuova generazione e quindi questo fa pensare che per fine 2013 inizio 2013 potrebbero arrivare le nuove console perfetto perché ovviamente passare ad un nuovo ad un nuovo motore di quel tipo essendo una cosa che permette di fare tante altre cose è anche molto complessa di per sé quindi se decidono di fare questo cambiamento dà appunto un'indicazione che se lo fanno non lo faranno per un bel po' dopo quindi è ovvio che verrà fatto con tutte le strutture necessarie a supportare delle nuove console o almeno questo è quello che si pensa in teoria poi bisogna vedere se realmente sarà succedendo così quindi secondo voi possiamo aspettarci in un paio d'anni le nuove console sia da parte della Sony che della Microsoft o aspetteremo ancora io direi sicuramente anche perché giusto diciamo due settimane fa è trappelato i soliti documenti leak rubati così che casualmente casualmente che probabilmente sono i soliti documenti che vengono pubblicati volontariamente per creare hype della Microsoft nella quale c'è tutto il piano che porterà verso la 720 si parla di Kinect 2 si parla di una nuova implementazione con la 720 che adesso il nome può noi diamo 720 magari sarà quello magari può sì no ho sentito Xbox Next alcuni eh insomma ci sono ci sono molte congetture sui nomi Xbox Ramarro no sarà la mia robina la comprerò non la potrò comprare Xbox Return Return si si dovrei dire per accenderla Xbox Ramarro io starò lì Xbox Ramarro l'accensione accensione vocale totalmente appunto in questo documento mostrava un po' tutti i piani di sviluppo che avrebbero portato l'uscita la 720 e insomma un po' tutti ci aspettiamo alle 3 2013 la pubblica cioè che sia Sony che Microsoft almeno una delle due mostreranno qualcosa di queste nuove console perché escano a fine 2013 o inizio 2014 ecco a proposito di questo secondo voi ovviamente magari non usciranno nello stesso momento ma come era successo per l'Xbox 360 e poi la PS3 una esce prima magari anche di svariati mesi l'altra esce dopo quale delle due console secondo voi avrà il vantaggio rispetto all'altra quella che esce prima o quella che esce dopo Ala? quella che è più decente delle due eh vabbè ma lo sai che all'inizio eh ma secondo me per dire l'Xbox all'inizio non vedeva niente poi una volta che è uscita la Playstation 3 almeno questa a quanto mi ricordo poi una volta che è uscita la Playstation 3 non ha soddisfatto molta gente ha venduto di più dopo perché hanno abbassato di molto il prezzo e l'Xbox è diventata abbordabile e vista in confronto alla Playstation sembrava un'alternativa interessante secondo me all'inizio molto per quello è stata comprata l'Xbox io se posso vai 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 ok io non puoi scusatemi lo sapevo tu non puoi parlare no ma no comunque dal mio punto di vista secondo me chi uscirà per prima avrà un grande vantaggio perché obiettivamente sono diversi anni che mancano a next gen secondo me la voglia da parte degli utenti di provare qualcosa che tecnicamente non sia sempre la solita roba sempre dello stesso livello perlomeno grafico magari sì del livello grafico ma rispetto che anche comunque la capacità di calcolo magari di un hardware maggiore potrà anche consentire una fluidità maggiore un Battlefield a 60 fps su console magari esatto anche perché spesso adesso i giochi tutti sono convinti 1080p su console ma spesso vengono renderizzate immagini a 580 mi sembra che Call of Duty Black Ops su Playstation 3 era meno di MW2 praticamente migliorano la grafica ma abbassano la risoluzione per ovviare il problema rendere cose quasi peggiori per me diciamo la prima che uscirà avrà un grande vantaggio per il fatto che secondo me per come io insomma conosco l'utenza che ho avuto modo di ascoltare di vedere messaggi su forum come questo ha una grande voglia di cambiare ecco sì ma non pensi che magari la console che esce dopo magari anche soltanto di 6 mesi ormai la tecnologia va avanti ad una velocità che 6 mesi possono significare un sacco non pensi che la console che esce dopo magari la prima che esce magari ha tante vendite magari gente mettiamo che esce prima l'Xbox magari tanta gente della PS che giocava prima sulla PS3 passa all'Xbox perché dice è uscita prima ho voglia subito però non pensi che magari la console che esce dopo possa essere tecnicamente migliore magari con dell'hardware proprio migliore quindi sul lungo periodo perché comunque abbiamo visto che queste console queste console stanno durando 7-8 anni o no la PS3 quindi sul lungo periodo la seconda console possa guadagnare molto di più per il fatto che magari sarà migliore appunto sul lato dell'hardware ma quello è possibile insomma anche diciamo vedendo adesso Xbox 360 e PlayStation 3 la PlayStation 3 tecnicamente a livello di hardware e di prestazioni anche quello che offre c'è il Blu-ray tutte queste è migliore ed effettivamente uno tenderebbe ad acquistare un prodotto tecnicamente superiore però il fatto è che su console si parla spesso anche di esclusive ci sono persone attaccate alle esclusive di una console o dell'altra che sceglieranno ci sono persone magari anche che come questa PlayStation 3 magari non ha soddisfatto le sue aspettative insomma ci sono molti fattori che possono influenzare anche spesso sulla PlayStation 3 i giochi rendono meno rispetto a una 360 perché si dice che avendo un hardware più complesso avevano una maggior difficoltà a sviluppare i giochi insomma sono discorsi molto relativi che forse potremmo fare quando effettivamente usciranno le console però si può dire certamente che una console con un hardware migliore potrebbe essere avvantaggiata capito ora invece voglio fare una domanda a Dig Dig te comprerai una delle nuove console PS o Xbox rimarrai come ora vedo che stai principalmente su PC io penso sicuramente comprerò una PS4 sono sempre stato fan della Sony sonaro eh ma io diciamo che sono a me piace anche le cose che ha l'Xbox però sono sempre stato abbastanza sonaro perché mi ha sono sempre stato contento della Sony dei suoi prodotti non ti ha mai deluso non mi ha mai deluso mai 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 e con queste tre mi ha anzi mi ha ancora più convinto a continuare con la Sony una cosa un breve accenno rispetto alla potenza hardware di cui si discuteva prima io penso in realtà giunti come come sia adesso a livello di tecnologia non farà così tanta differenza uscire sei mesi dopo almeno a una prima apparenza che è solitamente quella che si vedono le texture la grafica in generale del gioco perché perché mi ricordo che un ingegnere della Crytek aveva detto che per raddoppiare il livello di livello grafico di un gioco dovremmo decuplicare quindi moltiplicare per dieci la potenza e quindi anche sei mesi di differenza non è che una PS4 sarà più potente di dieci volte di un Xbox 720 o comunque anche di una PS3 non sarà dieci volte più potente quindi non avremo quel salto come magari c'era stato da una PS2 a una PS3 almeno come immagino io e come sono adesso gli engine e l'hardware capito anche questa questa differenza di uscire prima o dopo non dovrebbe fare così tanta differenza almeno per quanto riguarda l'aspetto hardware più che altro secondo me molto si giocherà sul prezzo anche avendo insomma questa crisi malgrado i videogiochi non siano intaccati così tanto il prezzo la farà anche lì da padrona molto a mio parere oltre come detto le esclusive all'inizio il prezzo che la fa da padrona all'inizio le consolano dei prezzi allucinanti quindi probabilmente quella più abbordabile si infatti tra l'altro chissà quanto costaranno all'inizio immaginati il ragazzino non so bambino di 10 anni che esce un xbox 720 esce una ps4 immaginati la ps4 costa 700 dollari l'xbox 720 costa 500 i genitori oddio già tirò poi 500 dollari per una console effettivamente sarebbe tanto quindi io immagino che il prezzo farà la sua e te lego invece cosa pensi pensi che prenderà l'xbox nuova o valuterai quale tra le due prendere forse è ancora un po' da aspettare vedere più che altro i titoli che ci saranno perché magari sarei tentato di acquistare una nuova console magari o xbox o playstation 4 insomma quello che verrà un po' in base a dei videogiochi magari se vedrò un videogioco particolarmente entusiasmante dove verrà sfruttata al pieno questa nuova console che si potrà giocare solamente su quella console magari ci farò un pensierino però sono soddisfatto un po' del mio pc che continua a darmi le solite soddisfazioni ecco proprio appunto parlando di questo scusate oggi prendo molto spazio ad arama appunto come sentite ha la voce giù e fa il personaggio defilato ecco comunque leggo questa domanda qua magari sembrerà un po' banale ma se ne sente davvero il bisogno di una nuova console cioè io so che te lo senti perché infatti diciamo che un po' stufato dell'xbox 360 del fatto che ci sia poca innovazione ti vedo molto più spesso giocare con il pc ma pensi che il pubblico molto più vasto quello che gioca sia con love duty che ad altri giochi comunque il pubblico di massa delle console sente davvero il bisogno di queste nuove console o è una cosa che non gli tocca più di tanto penso che qua il pubblico si debba un po' dividere perché ci sono magari quelle persone che su console è presente una buona fetta di persone che possiamo definire più casual gamer che insomma giocano sì in maniera un po' più per svago ma nulla di più magari quelli che si fanno la partita e la pass non li definisco proprio casual gamer però insomma che giocano giusto così un po' per il tempo libero senza impegnarsi troppo ecco e poi l'altra fetta magari che cerca più una sfida che cerca qualcosa in più a questo punto fatta questa divisione dire che da una parte ci sono quelli che sono interessati sentono questo grande desiderio di cambiare e gli altri che insomma sono abbastanza indifferenti a tutto questo probabilmente non so i giocatori di Battlefield su console sentono profondamente la necessità di cambiare console perché personalmente avevo provato la beta ed è veramente c'è un abisso tra quello che può effettivamente dare Battlefield su un pc o comunque su una piattaforma performante rispetto alla console che è molto limitato dunque ragazzi intanto vi informo che questa puntata sarà un po' diversa dalle altre per come è strutturata poiché come sapete di solito a metà puntata più o meno facciamo una pausa per farvi vedere un po' di pubblicità dei nostri due ospiti ma in questo caso abbiamo pensato che alla fine un po' che sono già stati ospiti un po' che sono piuttosto conosciuti alla fine questi due qua e non so come sia possibile ma in qualche modo questi due qua qualcuno li conosce qualcuno guarda i loro video ma non si sa bene perché per cui abbiamo deciso per questa puntata di non fare la pausa di fare tutta una tirata fino in fondo e quindi non ci sarà nessuna pausa continuo dicendo che per ora abbiamo parlato principalmente di Xbox e Playstation però ovviamente non è che esiste solo quella esiste anche la Wii U che oltretutto penso sia stata anche descritta un po' più approfonditamente non ci sono soltanto dei rumors della Wii U la Wii U l'abbiamo vista abbastanza bene questo E3 e vabbè si avrà un hardware simile a quello della PS3 molti sono un po' scandalizzati perché dicevano oh mio dio quando usciranno quindi le nuove console con la Wii U rimarremo indietro però quel che si è visto è che la Nintendo punterà più che sulla potenza hardware sull'innovazione che si può apportare a una nuova console abbiamo visto che avrà questo controller che sarà anche uno schermo si potrà utilizzare per interagire con il gioco in maniera differente e anche hanno annunciato questo Miiverse insieme a tutta una serie di funzionalità che sembrano effettivamente molto interessanti cercano di rendere il videogioco un po' più social anche se tu giochi in singolo visto che quello che vogliono tipo cercare di fare un po' più non friendly diciamo secondo me vogliono fare che tu possa comunque continuare a interagire anche se giochi ad un gioco single player l'esempio che hanno fatto vedere era di Super Mario ah no l'esempio che hanno fatto vedere oltre quello di Super Mario che era abbastanza easy easy era di un gioco di zombie zombie U dove c'era questo qua che era bloccato e chiedeva aiuto a un vecchietto un dolce che era un onnino su come uccidere questo zombie quindi anche nei giochi single player cercano di mettere questa componente oltre all'aggiunta l'innovazione che si ha con questo controller schermo strano che si ha sai cos'è questa cosa qua della Wii comunque che è uscita adesso con l'hardware che ha la PS3 cioè è una console proprio nata vecchia io mi chiedo ma a livello di hardware sì a livello di hardware certo ma costava davvero tanto certo la Wii non ha mai puntato tantissimo sulla grafica anche quando è uscita la Wii pur essendo uscita dopo la PS ed Xbox aveva un hardware peggiore ma costa davvero tanto fare un hardware migliore abbiamo parlato tutti sì sì perché siamo tutti no questo è io vai vai le lego che sei ospite no no spazio dig vai te tra i due litiganti va bene tra i due litiganti gode quello con la voce rotta allora dunque secondo me è una scelta volontaria quella di fare un gioco più carente dal punto di vista tecnico fare un gioco fare una console più carente dal punto di vista tecnico che poi bisogna vedere è più carente dal punto di vista per dire grafico anche di di potenza di calcolo e tutto il resto però magari ha delle strutture che le altre console per ricrearle ci hanno messo un po' per dire tutto il sistema motion del adesso non mi ricordo come si chiama il joypad della Wii comunque tutto quel sistema il Wiimote tutto quel sistema era tecnicamente piuttosto avanzato secondo me era molto preciso eccetera di sicuro è una scelta stilistica perché ovviamente se facessero una console tecnicamente più potente dovrebbe anche costare di più la console e non è il loro target evidentemente perché sennò farebbero altri giochi è evidente che il loro target sia un target più casual ancora più casual delle altre console per dire che quindi per forza di cose devi fare una cosa più più economica più abbordabile più for fun popolare la prende per dire mio fratello l'ha regalata alla sua ragazza non è che uno regala una console alla ragazza cosa? stai insinuando qualcosa? no però per dire di solito un regalo una console è una cosa costosa se puoi permetterti di regalare vuol dire che è una cosa un po' più come un gioco davvero presa come un gioco e basta un qualcosa un passatempo momentaneo sicuramente questo fa molto cioè va molto a modificare le scelte tecniche che si fanno e penso che continueranno su questa linea visto cosa sta dicendo Digg e visto quello che hanno fatto vedere cioè cercare di prendere tutta quella fetta che è un po' meno hardcore un po' meno interessata ai titoloni ma magari gli piacciono di più le cose simpatiche divertenti da giocare con gli amici la famiglia la mamma il papà la nonna esattamente esattamente perfetto e un'altra cosa prima di passare ad un secondo argomento che volevo introdurre volevo chiedere a Digg se voi avevate sentito delle indiscrezioni alcune rumor sulla famosa Steam Box ne avevate sentito parlare voi se no dico io cos'era io avevo sentito parlare questa cosa di Steam che voleva fare una console no e boh non è un po' come la Apple che voleva fare la console ormai il mercato lo reputo un po' Saturn malgrado Valve sia la dea dei videogiochi secondo me la vedrai un po' dura entrare in un mercato del genere no comunque a meno che a meno che a meno che non decidessero di fare una cosa del tipo che se tu compri un gioco su Steam ce l'hai sia sulla console che sul pc ma infatti questo è Steam Box questo potrebbe essere una cosa che secondo me esatto come già è stato tra l'altro un primo esperimento è stato fatto con Portal 2 dove chi comprava Portal 2 per PS3 poteva anche giocarci su PC tramite Steam gratuitamente comunque il fatto è che praticamente questa notizia che era venuta fuori poi comunque è stata smentita non era vero però era una cosa che mi aveva quasi interessato all'inizio che se avete sono un hardcore pc gamer era praticamente una console uno Steam Box appunto che con il prezzo delle normali console e un hardware comunque delle console di prossima generazione che sarebbe stato praticamente un pc da gaming con un sistema operativo che non è Windows che non ti permette di magari navigare su internet o cose del genere ma un sistema operativo di Steam interamente pensato per i videogiochi praticamente molte persone si allontano dal pc rispetto magari che andare sulle console perché il pc è anche più complicato da gestire da curare anche il fatto di installare i giochi tra virgolette su console inserisci i cd vai i giochi invece su pc magari devi installarlo devi metterci la patch devi scaricare questo quello ecco la Steam Box sarebbe stato un pc fatto esclusivamente per il gaming con un sistema operativo free handling che avrebbe appunto permesso di farlo davvero come se fosse una console come se fosse un ibrido tra computer e console insomma sarà un Mac sì i Mac sono fatti per il gaming questo non mi sembra no no però so un pacchetto già pronto che mi è contento sì lo prendo già costruito a proposito dei Mac com'è il gaming sui Mac te Alato te hai un Mac no? no assolutamente no hai un Mac gigantesco in camera no ma no quello era di un mio amico no figurati ah era di un tuo amico ti lasciavo un Mac gigantesco in camera no 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 io non sono tanto c'è un Mac sarà niente niente non mi procuro altro odio un Mac qualcuno qua ha mai giocato sui Mac sa qualcosa no Dig? io su quella mia sorella e su Mac allora che poi c'è da dire non è che nintendi Mac OS X perché sulla piattaforma Mac hardware c'è c'è da fare la differenza tra Mac hardware e Mac sistema operativo giocare su Mac sistema operativo non so quanti giochi ci siano penso ci sia The Sims alcuni giochi la Valve ha convertito City in Fortress che è la 4 Dead che porta mi pare che anche Serious Sam 3 funziona su Mac OS però diciamo un po' un'esperienza stile Linux cioè devi attorire un gioco cioè devi soffrire per far funzionare un gioco che non è stato creato appositamente per il tuo sistema troppo in queste cose la Microsoft la fa sempre la padrone si è chiaro quelle cose lì si possono fare comunque quelli che vogliono giocare quelli che vogliono giocare su Mac quelli che vogliono giocare su Mac si installano Bootcamp installano Windows e giocano utilizzando Windows penso che fanno emulazione sì penso che giocare proprio di standard su Mac OS X ci siano veramente cioè pochi giochi rispetto a quello che agli applicativi che ci girano su Windows capito e quindi qua introduciamo il nostro secondo argomento della serata perché serata dico sempre serata non so della puntata che magari ve lo guardate di mattina saranno cavoli vostri io vi consiglio di guardarlo la sera perché è più bello c'è più atmosfera fa anche più fresco in queste giornate sono le cicali che fanno clic 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 tutto così però la mattina ci sono anche la mattina presto ci sono le cicali che fanno clic 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 sì più o meno effettivamente comunque e il secondo argomento molte volte ci chiedono ma il vostro pc com'è molte volte mi chiedono come ho fatto il mio pc dove l'ho comprato che pezzi ha così e quindi visto che qua comunque tutti noi abbiamo un pc abbastanza buono vogliamo darvi un attimino i nostri consigli a quelle persone che appunto magari stufe della console di vecchia generazione non hanno voglia di aspettare la prossima ps4 ps5 xbox 720 1080 e vogliono passare al pc gaming ecco noi vi consigliamo un attimino in base alla nostra esperienza qual è il modo migliore per fare questa transizione quindi se posso dire anche una cosa in aggiunta a questa è che questo è un periodo secondo me in cui c'è una forte migrazione delle persone dei giocatori da console a pc e succede sempre quando appunto le console sono in fase calante cioè si cominciano ad essere davvero troppo arretrate per certi versi sia dal lato tecnico ma anche dal lato come dire di come sono strutturate diciamo che c'è sempre bisogno di un po' di evoluzione come diciamo dalla playstation 2 per dire la playstation 3 c'è stata l'evoluzione dell'online è evidentemente necessaria immaginatevi una playstation 3 che non è possibile collegarla in rete sarebbe impensabile che avesse avuto successo sicuramente ci sarà bisogno di una certa evoluzione e probabilmente in questo momento la forza di un pc rispetto a una console si può sentire maggiormente quindi può anche valerne più la pena diciamo poi ovvio tra due anni magari ci sarà la nuova console però prima che diventi ad un prezzo abbordabile ce ne passa quindi vediamo un attimino dig te che sei il più informatico qua tra di noi qual è il primo consiglio che daresti ad una persona che dice voglio costruirmi un pc da gaming voglio comprarlo il primo consiglio è non puntare per il top di gamma mai puntare per il top di gamma perché dopo pochi mesi due tre mesi non sarà più il top di gamma e avrai sprecato sprecato letteralmente dei soldi per qualcosa che in realtà non è che ti servirà quindi un pc da 2000 euro dici non conviene? no secondo me no non conviene affatto cioè o ce li hai proprio lì da buttare diciamo a meno che non sei un riccone te ne puoi fregare ma un pc con quelle componenti magari dopo pochi mesi potresti pagarlo molto molto meno è tutto lì il discorso quindi appunto guardare non tanto per la qualità ma per il miglior rapporto qualità prezzo esattamente andare per diciamo il medio alto cioè per esempio oddio adesso è un po' duro dire però fino a qualche mese fa prendersi una come scheda video una 560 o una 570 era lì era lì diciamo il punto caldo il punto focale per quanto riguarda le schede video come per esempio per i processori che ancora adesso è un 2500k quindi l'i5 invece che magari non so un super i7 980x ecco ecco appunto molte volte io sento le persone che dicono io ho un i5 io ho un i7 senza poi andare a vedere che in realtà ci sono degli i7 che per il gaming sono inferiori a degli i5 addirittura magari sono uguali ma il costo aggiuntivo non giustifica le cose che hanno in più ecco qual è la differenza tra un i5 e un i7 perché io sinceramente ho un i5 abbastanza vecchiotto ma per un pc recente che ho tra virgolette costruito ho scelto un i5 e non un i7 perché? allora la differenza maggiore sta nell'hyper trading in pratica è come se moltiplicassi per due meno sull'i7 i processori ok? e perché questo non è buono per i giochi? perché nessun gioco allora penso che forse nemmeno battersi utilizza più di due core ok? quindi diciamo che avere in realtà come avere diciamo 8 core in realtà è inutile adesso come adesso per il gaming è utile in applicazioni come non so rendering in real time quindi anche quando si utilizza Vegas Sony Vegas o tutte quelle cose lì però invece avere l'hyper trading su un gioco hanno anche dimostrato che per esempio su Battlefield un i7 mi pare era al 2000 vabbè insomma un i7 con l'hyper trading girava peggio di un i7 con l'hyper trading disattivato o di un i5 quindi senza iper trading capito quindi non guardate soltanto i numeri è questo quando più che altro lo sapete la cosa migliore che sembrerà banale che si può suggerire è davvero intanto non prendete i preassemblati perché i preassemblati nel 90% dei casi sono tra virgolette delle truffe ma delle truffe perché molto spesso vedo dei preassemblati che hanno dei pezzi tra virgolette squilibrati magari hanno la scheda video ottima ma il processore scarso oppure hanno 16 giga di RAM quando per il gaming la RAM non è davvero un fattore che deve importare più di tanto una volta che si hanno 8 giga si va tranquillissimi non ne servono 32 appunto non prendere preassemblati e informarsi su quei siti che tra l'altro ci sono diversi siti che hanno anche il servizio di preassemblaggio cioè di assemblaggio prima che te lo spediscono a casa quindi voi dite ma io magari non sono capace di comporre manualmente il computer questi siti che vi li vendono faccio due esempi quelli che ho guardato più spesso sono proq.com da cui io ho comprato e ik.it da questi siti appunto si possono scegliere i pezzi singoli loro te lo assemblano e te lo mandano a casa pronto per l'uso anche con l'installazione del sistema operativo volendo appunto non prendete preassemblati ma informatevi su ogni pezzo e perché prendere quel pezzo rispetto ad un altro appunto quello che ha fatto Digo è un esempio che il processore per esempio per il gaming se non avete aspirazioni da editor rendering o cose assurde ecco diciamo che un i5 va benissimo non servono i7 anzi addirittura l'i7 come detto può essere deleterio la ram appunto è un altro punto 8 giga di ram per il gaming io addirittura ho 4 giga di ram penso che penso di non aver mai avuto problemi io sul ram ho una cosina da dire io ho 16 giga ho 16 giga e non trovo ormai 16 giga di ram ti costano 100 euro cioè costa veramente veramente poco 8 costano 50 ma diciamo che per quello che ti può servire in realtà è utile c'è una cosa che si può fare nel caso mandatemi un messaggio vi spiego come per disattivare la scrittura dei programmi su disco invece che è una cosa che poi vi spiegherò comunque serve per far sì che i programmi continuino a essere mantenuti su ram invece che scriverli su disco quando il computer sta aspettando e avere 16 giga ti permette tranquillamente di farlo ed inoltre siccome Windows 8 cambierà completamente il sistema di come è allocato la memoria avere 16 giga sarà o comunque più di 4 giga sarà effettivamente utile quindi per quello che costa adesso la ram prendeteli pure più di 4 giga 6 8 4 ormai non si prende ma 8 giga se avete 50 euro in più da metterci li metteteci pure ovvio anche lì però bisogna vedere tanto eventualmente compararli dopo quando necessario non penso che aumenteranno improvvisamente di prezzo il massimo di veniscono ulteriormente non è il fatto se avete 50 euro in più aumentato la ram se ho 50 euro in più mi conviene di più aumentare la ram o prendere una scheda video migliore cos'è che mi conviene di più lego dimmi un attimo te te il tuo pc da gaming dove l'hai preso come l'hai preso come ti sei informato beh diciamo che ho comprato i componenti del innanzitutto prima di costruire il mio pc da gaming sono partito dalla base ossia il budget prima di tutto si deve valutare bene un po' il budget che si ha a disposizione poiché tramite quello saprete quali componenti vi potrete permettere dove potrete andare a investire dove sarà meglio risparmiare fatto ciò e trovate tutti i componenti compatibili con schede madri ram e tutte queste cose ho acquistato i componenti in internet e me li sono fatti arrivare a casa e poi ho deciso appunto per la prima volta di assemblarmi da solo il pc rischiando probabilmente di distruggere tutto farei una cosa devastante ma alla fine sono riuscito ad assemblare con le mie mani è più facile di quel che sembra alla fine si è vero però diciamo che più che altro è il fatto che una persona che non l'ha mai fatto non ha la sicurezza giusta nel farlo e soprattutto dice magari ci vuole un attimo rovino un componente e cosa ho fatto vuole notare 300 euro perché sono un pirla che ho fatto una cosa che magari era meglio non fare però alla fine diciamo io mi sono mostro così soprattutto ho valutato bene nel budget scegliendo il massimo di quello che potevo permettermi con quel budget per costruire un buon pc da gaming e soprattutto diciamo che il mio computer costò circa sui 1300 euro però dovete sapere che anche con un 800 euro 600 euro potete farvi un computer da gaming modesto che vi prometterà di giocare a tutti i videogiochi attualmente disponibili magari non al top delle performance però ve li potrete godere tranquillamente quindi non è che un pc vuol dire fare una donazione di organi per comprarselo insomma anche con tra virgolette poco si può creare un buon pc ecco sì valutando anche i pezzi che uno ha già a disposizione che spesso si possono riciclare riciclare nel senso non è necessario modificarli perché poi ovvio se uno va a vedere uno deve farsi un computer da zero ovviamente i prezzi un pochino aumentano perché sai devi prendere lo schermo il case l'alimentatore tutte quelle cose che magari uno se c'è già un computer può semplicemente un pochino upgradarle e questo è il vantaggio dei computer senza bisogno di andare a modificare tutto il sistema e magari vendendo i vecchi pezzi se non sono proprio dei 14 si riesce anche a guadagnare qualcosa comunque sì appunto come ha detto ora come ora con 800 euro un pc da gaming che gioca bene i giochi attuali e giocherà anche i giochi futuri per un secondo me ha dettagli buoni un paio d'anni con 800 euro se lo si fa comunque io credo che il pc sia una di quelle cose in cui quando lo si prende vale la pena spendere un pochino di più per non essere costretti a spendere ancora di più dopo e quindi secondo me magari già con 1000 euro magari con soltanto 200 euro di differenza riuscite a farvi un pc che su siti appunto come ikei o procu un pc che vi può durare anche in longevità tre anni di più rispetto a un pc da 800 euro quindi appunto io penso che quando si prende un pc valga la pena di fare una spesa anche magari superiore a quella che si vorrebbe ma poi appunto nel lungo periodo paga come strategia un consiglio non risparmiate sull'alimentatore infatti guarda io ti dico l'alimentatore io con il mio computer vecchio vi sono esplosi qualcosa come tre alimentatori o sto giro ho preso un alimentatore con i controcazzi e anche con un vattaggio superiore che non me ne faccio niente ho 850 watt quando con 650 750 da quando ho overclockato mi basterebbero ma oh almeno vado sul sicuro non mi scoppia bravo io invece ho una pila di alimentatori cinesi mi ho già scoppiati tre o quattro e me ne fotto perché tanto ho speso comunque di meno in totale quindi piano piano li consumerò tutti e prima o poi li finirò oh vabbè ma perfetto hanno già inventato direttamente l'omino cinese che sta lì e mi energizia spalla carbone dentro il computer spalla carbone dentro il computer perfetto ora io penso che possiamo avviarci alla conclusione ma prima volevo un attimino chiedere a Dig che penso sia il più informato tra di noi visto che parliamo delle console di nuova generazione parliamo anche del sistema operativo nuovo Windows 8 cosa ci sai dire su Windows 8 perché io l'ho visto mi sembra una cosa molto alla Apple e penso che sinceramente me ne starò su Windows 7 a Windows 8 io ho visto che ci sono tipo due c'è anche una beta che si può provare che io ancora non ho installato sinceramente ho visto che ci sono tipo due tipologie di interfacce ovvero quella normale quella a cui siamo tutti abituati e quella uno schifo quella da tablet che penso che su un pc normale venga da schifo penso sia più adatta a quelli che hanno lo schermo touchscreen che non so chi siano tra l'altro quei pazzi hanno uno schermo touchscreen per stare su pc e la differenza maggiore dovrebbe esserci differenza per quanto riguarda il registro ovvero quello che farà ogni volta non salvare e ricontrollare il registro quindi l'accensione e lo spegnimento saranno più rapidi via teorica sempre e poi poi ci sarà una nuova implementazione delle DirectX 11 11 non mi ricordo mai si chiamano poi e altre novità su Windows 8 ma sono cose utili secondo te ora come ora perché io con Windows 7 sono abbastanza soddisfatto io sinceramente avere la roba lì che si accende e si spegne prima comunque più snello perché ogni volta non deve fare capire SSD che non è una malattia state tranquilli è un hard disk che carica molto più velocemente per mettere di accendere il computer in una decina di secondi magari qualcuno sente queste cose qua va a drogarsi non lo so la differenza però appunto tra un Mac OS X e un Windows non è che perché l'hardware di Mac è migliore anzi solitamente per lo stesso prezzo vi tirano dietro un catorcio è perché su Windows quello che fa Windows ogni volta che si accende è controllare le chiavi di registro vedere tutto a posto e così via quindi ci mette l'ira di Dio ad accendersi un Mac invece se ne frega altamente quindi in conclusione compratevi un Mac sono migliori dei piccoli comprate Windows mancano va bene comprate Windows perfetto ok do la parola a Dara niente no volevo solo dire parlando di interfaccia di Windows eccetera che sogno con ansia il giorno in cui faranno come su Linux che ti puoi mettere la cristo di interfaccia che vuoi che se una ti fa schifo te ne puoi mettere un'altra se un'altra non ti piace la puoi modificare come ti pare e questo invece su Windows non succede su Windows hai un'interfaccia poi per carità puoi spostare la barra puoi cambiare il colore dello sfondo ma a livello di interfaccia rimane sempre uguale diciamo per certi versi è un po' limitante questa cosa limitativo limità limitaggio è limitevole 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 esatto profondamente limitevole perfetto e a proposito di limitevole direi che questa puntata si lo so è un po' più corta delle altre ma penso che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire sugli argomenti quindi non ci fermeremo oltre io lascio salutare agli altri Ala bene vi saluto anch'io ragazzi puntata più breve purtroppo adesso come sapete è estate quindi abbiamo ovviamente più caldo e la durata non può essere quella normale capiteci quindi lascio la parola non commento io riesco ad avere mal di gola in piena estate con 40 gradi non so come cazzo no ma spiega spiega come hai fatto ho fatto il bullo bagnato in motorino e stavo facendo le pinne in autostrada con i capelli bagnati per fare colpo sulle sono andato con i capelli bagnati e il risultato è che ho la voce di un travone vabbè perfetto allora faccio sentire un baci saluto con la tua voce io vi saluto qua lasciate un mi piace ciao 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 e agli altri ciao a tutti ragazzi ci vediamo alla prossima ciao ciao